...obiettivo al tempo delle norme anticontagio, salvare la giustizia. Il nome della manifestazione nella quale gli avvocati hanno alzato la voce chiedendo di tornare a celebrare le udienze in aula. Tante quelle rinviate, professionisti in piazza in tutta Italia e anche a Bari e a Lecce. Ospite dei nostri studi, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefani. Presidente, bentornato e grazie. Grazie a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Per voi possiamo dire una fase 3 quasi inchiodata alle condizioni delle prime settimane del contrasto al Covid? Assolutamente sì, anche perché fino ad oggi non abbiamo appreso notizie confortanti. Noi abbiamo avuto una prima fase di blocco totale, la fase 1. La fase 2 che avrebbe dovuto registrare una ripresa è stata assai deludente. Comunque di stallo denunciate. Assolutamente. Se non completamente di stallo, noi a Bari in qualche modo ci siamo difesi grazie alla collaborazione con i capi e gli uffici, ma le norme a disposizione non hanno consentito una ripresa effettiva. Per cui il 20-30% si è riusciti a fare, il resto è stato vittima di rinvia anche abbastanza lunghi. C'è chiarezza, lo avete detto anche in piazza, sulle discoteche, una provocazione ma non troppo. Invece i tribunali continuano ad essere avvolti da una nebulose? Assolutamente sì. Noi assistiamo alla ripresa, per fortuna, di tante altre attività e componenti della vita sociale del nostro Paese. Però riteniamo che il blocco della giustizia non è giustificato. Ritenendo che una ripresa davvero seria del Paese può avvenire soltanto se assistita dalla giustizia che riprende. Fino ad oggi la giustizia è rimasta al palo, in coda, perché mentre tutto riprende la giustizia è ancora sospesa. E questo non può avvenire, perché non può essere sospesa da tutela dei diritti delle persone. Anche l'economia viene penalizzata da un arresto della giustizia. Ovviamente conseguenze a cascata. Scendiamo nel dettaglio. Quali sono le vostre richieste? Noi facciamo delle richieste molto precise. Sulla scorta dell'esperienza proprio della fase negativa, della fase 2, che non ha sortito il successo, noi chiediamo un piano straordinario sulla giustizia. Quali sono gli ingredienti? La fase sanitaria ci ha insegnato che ci sono delle carenze ataviche nella giustizia che non possono più proseguire. Quindi chiediamo interventi normativi innanzitutto, uniformi su tutto il territorio nazionale, per sganciarci dalla babele delle regolamentazioni locali. E poi degli investimenti seri di risorse economiche. Se il nodo, siamo quasi in chiusura, Presidente, dell'edilizia giudiziaria a Bari, una nosa vicenda. Chiedete di premere realmente sull'acceleratore del polo della giustizia? Certo, ci saremmo aspettati che proprio in questo momento di emergenza ci sarebbe stata un'accelerazione. Invece abbiamo visto una ingiustificata e incomprensibile ancora ritardo nell'avviare quella fase straordinaria per la realizzazione di una sede adeguata. Che se avessimo potuto disporne in questo periodo, forse avremmo avuto una giustizia che funzionava di più. Grazie, grazie Giovanni. Stefani, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari e buon lavoro. Continuiamo il giornale.